Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia e oggi ti faccio vedere il flusso di gioco di Isle of Sky. Oppure, se ti interessa conoscere componenti e setup, puoi cliccare sulla piccola E in alto. Oppure, se vuoi andare a un momento in particolare di questo video, puoi cliccare su questi link oppure quelli in descrizione. Sei ancora qui? Ok, andiamo a incominciare. La prima fase è quella del profitto, in cui ogni giocatore prende 5 monete più una moneta per ogni tessera collegata tramite una strada al castello che contiene un barile. Ad inizio partita, quindi, tutti i giocatori ricevono 5 monete. È bene comunque tenerle nascoste dagli altri giocatori. Nella seconda fase, ogni giocatore pesca dalla sacca 3 tessere e le mette scoperte di fronte al suo schermo. Quindi adesso ogni giocatore deve assegnare almeno una moneta a due tessere e scegliere quale delle tre eliminare. A questo punto i giocatori rimuovono i loro schermi. Rimuovono la tessera che hanno scartato e la rimettono nella sacca. Ora, partendo dal primo giocatore e ruotando in senso orario, ogni giocatore può acquistare una tessera da un altro giocatore. Bisogna pagare il prezzo esatto con le monete che sono eventualmente rimaste. Il giocatore blu, che ha ancora due monete, decide di acquistare questa tessera dal giocatore rosso. Dà al giocatore rosso quindi una moneta, il quale riprende anche la moneta con cui aveva apprezzato la tessera, e il giocatore blu prende la tessera. Il giocatore blu tiene la tessera vicino alla sua area di gioco, in attesa della fase successiva quando potrà piazzarla. Il giocatore verde ha utilizzato tutte le sue monete per prezzare le tessere, quindi questo round non potrà acquistare nulla. Ma se il giocatore blu avesse acquistato tessere da lui e ora avesse dei soldi, potrebbe acquistare. Il giocatore rosso ha tre monete, due delle quali le ha guadagnate dalla transazione con il giocatore blu. Quindi decide di acquistare questa tessera del giocatore verde pagandola a tre monete. Il giocatore verde prende i soldi del giocatore rosso e i suoi, e il giocatore rosso prende la tessera. Ora che il round di acquisto è finito, i giocatori devono acquistare le tessere che hanno di fronte a sé, rimettendo i soldi in riserva. Nella quinta fase, i giocatori devono aggiungere le tessere che hanno acquistato al loro territorio, facendo combaciare le varie aree, montagna, pianura e acqua, e senza badare alle strade. Ciò significa che una strada non deve essere continua, può finire in acqua o su una montagna. Nel caso in cui tu non potessi piazzare in alcun modo una tessera, questa torna nella sacca, ma non riceverai né un'altra tessera né i soldi indietro. Il blu decide di piazzare le sue tessere in questo modo. Il verde invece decide di piazzarle così. Il rosso invece sceglie di piazzarle così. A questo punto ogni giocatore riceve dei punti in base alla tessera che viene conteggiata. Nel primo round viene conteggiata solo la A. La tessera dice che si ottengono 1, 3 o 6 punti vittoria per ogni area di montagna che contiene 1, 2 o 3 di queste strutture. Il giocatore rosso quindi ottiene un punto. Ed è l'unico in questo round ad ottenerne. Terminata la fase del punteggio, il segnalino primo giocatore gira in senso orario. Ora andiamo a vedere il punteggio del round finale, così scopriamo chi ha vinto la partita. Questa è la situazione finale. Adesso è il momento di conteggiare i punti dell'ultimo round, quindi le tessere B, C e D. Contiamo per il giocatore blu quelle aree complete di almeno 3 tessere, questa montagna e questo lago, per un totale di 6 punti. Ora contiamo le linee verticali di almeno 3 tessere, e sono 1, 2 e 3, per un totale di 9 punti. Ora andiamo a vedere i quadrati composti da 4 tessere. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi il blu totalizza altri 12 punti. Ora vediamo le sue pergamene. Ottiene un punto vittoria per ogni faro, e avendone solo 1, ottiene un solo punto vittoria. Un punto vittoria ogni 2 pecore, e avendone 4 ne ottiene solo 2. Un punto vittoria ogni fattoria, e avendo 6 fattorie ottiene 6 punti vittoria. Infine, di nuovo un punto vittoria ogni 2 pecore, quindi altri 2 punti vittorie. Passiamo ora al giocatore verde, e contiamo quelle aree complete che sono almeno di 3 tessere. Ne ha solo una, questa montagna, per cui ottiene solo 3 punti. Ora contiamo le linee verticali di almeno 3 tessere. 1, 2, 3. Ottiene quindi 9 punti. Ora i quadrati, composti da 4 tessere. 1, 2, 3, 4 e 5. Ottiene quindi 10 punti. Ora guardiamo le sue pergamene. Ma ricordati che le pergamene che sono in aree complete valgono il doppio. Ad esempio, questa pergamena gli fa ottenere un punto ogni 2 barili, ma essendo in un'area di montagna completa, 2 punti ogni 2 barili. Contiamoli. 1, 2, 3, 4 e 5. E ottiene 4 punti. Questa pergamena gli fa ottenere un punto per ogni faro. Avendo un solo faro, ottiene un punto. Quest'altra pergamena gli fa ottenere un punto ogni 2 barche. Avendone 5, ottiene 2 punti. Questa pergamena, come quella di prima, gli fa ottenere un punto ogni 2 barili, solo che non è in un'area completa, quindi non vale il doppio. E questa volta ottiene 2 punti. Ora contiamo i punti del giocatore rosso. Avendo solo quest'area completa di almeno 3 tessere, ottiene 3 punti. Contando le linee verticali di almeno 3 tessere, ne troviamo solo 2, quindi ottiene 6 punti. Per i quadrati composti da 4 tessere, troviamo questo e questo. Ottiene quindi 4 punti. La sua unica pergamena gli fa ottenere un punto vittoria per ogni mucca. Avendone 3, prende 3 punti vittoria. Il giocatore rosso ha anche 5 monete che gli avanzano, per cui prende un altro punto. Il punteggio finale quindi è 63 per il giocatore blu, 57 per il giocatore verde, 35 per il giocatore rosso. E questo è davvero tutto. Ma se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, non esitare a metterle nei commenti e risponderò appena possibile. Ti ringrazio per aver guardato questo video. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.